Del corso mi è piaciuta l'energia che si respira, il senso di qualcosa di grande che si può espandere perché è un'esperienza che ti fa lavorare su te stesso e che ti aiuta a crescere. Mi porto a casa tanta energia positiva e tanta voglia di continuare. Un po' di zavorre di cui ero già consapevole ma che in qualche maniera continuavo a tenermi. Grazie a Patrizia perché con la sua energia e con la sua capacità di coinvolgere ti fa sentire sempre accolto.